Non accadeva da circa 60 anni che la nazionale italiana restasse esclusa dai mondiali di calcio. Ma secondo l'articolo 7 del regolamento FIFA, per gli azzurri esiste ancora una piccola speranza. L'Italia avrebbe infatti la possibilità di essere ripiescata per la fase finale della Coppa del Mondo in caso di abbandono o esclusione per gravissimi motivi di un'altra squadra dalla competizione. L'unico precedente del genere riguarda il ripescaggio della Danimarca ai campionati europei del 1992, reammessa nonostante la mancata qualificazione a causa dello scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia. Qualora un'associazione si ritiri o si è esclusa dalla gara, il comitato organizzatore della FIFA deciderà sulla questione a propria discrezione e prenderà qualsiasi azione ritenuta necessaria.